Casaro Casaro praticamente presiede tutto il processo di trasformazione dal latte di bufala alla mozzarella si occupa principalmente della prima fase in cui praticamente prende la quantità di latte e procede praticamente all'immissione all'interno del latte della flora batterica che serve per avviare le reazioni chimiche per creare la cagliata è molto importante perché essendo un processo di natura chimica dalla vista e dal tatto si devono capire quando è maturata la cagliata e quindi quando sarà pronta la mozzarella e basta sbagliare di qualche minuto che esce praticamente un pasticcio e la mozzarella diventa immangiabile tutti i nostri mastri caseari li abbiamo formati noi internamente perché noi abbiamo una tradizione di oltre 50 anni Gourmitpedia is an Italian food encyclopedia made by Gourmit a consortium of Italian producers See you next time